Si discute del futuro della Putiolana 1902, il campionato si è concluso con la squadra Granata che è arrivata ultima e che è retrocessa nel campionato di eccellenza. Le speranze però di permanere nel campionato nazionale non sono del tutto sfanite, infatti si sta lavorando per l'acquisizione di un titolo affinché si possa garantire alla tifoseria un altro anno in Serie D per programmare al meglio il futuro. Il tutto è stato affermato anche dal presidente della Putiolana, Salvatore Di Costanzo, ai microfoni di Campi Flegre TV durante la trasfissione l'angolo del triposo Granata affinché venisse fatta chiarezza sul futuro del club flegreo. La Pozzuoli ci vuole rimanere, la continuità ci sta, ok? Se siamo fortunati e nessuno can chiedere all'altra sfonda abbiamo la squadra per la Serie D, noi pensiamo che il club è aperto e mai nascosto l'uno. La squadra si fa quest'anno e si fa per gli obiettivi più importanti. Visto tutti la margine che ci fanno in stanza, l'anno prossimo si parte con tante esperienze.